Missione compiuta, il evento è ancora a punteggio pieno, una partita che poteva avere dei tranelli dal punto di vista psicologico, invece arrivano i tre punti e anche se presto per parlare si va sempre più in testa a testa con la Roma, subito, fin dall'inizio. No, il testa a testa è troppo presto perché siamo solamente a settembre, la quarta giornata. Per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi, sono stati molto bravi a tenere la concentrazione, a cercare di vincere questa partita, a giocare discretamente, tecnicamente e a fare una buona fase difensiva. Sì, però non è ancora in ottime condizioni, deve migliorare ancora molto perché ha giocato solamente due partite, deve lavorare con la squadra e sta sera tenuto bene per 50-60 minuti. Adesso una settimana di quelle tose, ci sarà l'Atalanta, poi la partita Champions contro l'Atletico e poi la Roma, si parla già per quanto sia prestissimo di sfida per la testa classifica per contendersi lo scudetto? No, no, ci vuole calma questo evento qui, da domani dobbiamo pensare all'Atalanta perché tra due giorni rigiochiamo e poi prepareremo l'Atletico Madrid e poi prepareremo la Roma, insieme non lo possiamo giocare, prima bisogna pensare all'Atalanta. Grazie, arrivederci. Abbiamo parlato dell'allettico Madrid, di Vidal, problemi fisici, però può essere che se ne può salvare per queste importanti partite? Vidal deve lavorare con la squadra e deve giocare. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.